Care amiche e amici di Trentino Eventi, siamo qui al campo sportivo di Cles per celebrare l'evento, il primo giorno di scuola edizione 2022, promosso dalla Cassa Rurale Val di Nonne, Rotogliana e Giovo. Andiamo a vedere! Eccoci qui con il presidente della Cassa Rurale Val di Nonne, Rotogliana e Giovo, Silvio Mucchi, che ci racconterà un po' l'essenza di questo evento. L'essenza è che abbiamo voglia di avere i bambini vicini alla Cassa Rurale, abbiamo voglia di essere noi vicini alle famiglie e quale modo migliore che non ricordare gli eventi, le occasioni più importanti per la vita. Sicuramente ricordiamo tutti il nostro primo giorno di scuola, le emozioni, anche quando abbiamo portato i nostri figli per chi è genitore. Noi abbiamo voluto essere al fianco di queste emozioni, essere magari anche ricordati nel tempo attraverso l'oggettistica, attraverso quello che può essere un buon gelato, qualche cosa di particolare che rimanga nella memoria. Ecco, crediamo che sia una festa per i bambini, una festa per le famiglie, ma sia soprattutto anche una bella occasione di vicinanza e di dimostrazione di quello che è il credito cooperativo e quello che è il valore della Cassa Rurale. Siamo qui adesso con Emma e Chloe che ci raccontano cosa ne pensano di cominciare la scuola. Siete felici di cominciare la scuola? Sì! Siete contente? Sì! E oggi vi siete divertite? Sì! Avete incontrato anche i vostri amici? Sì! È emozionante, adesso vediamo se saranno brave, ma sicuramente hanno molto entusiasmo. Diciamo che è una bella emozione, forse quasi più per i genitori che non per i bambini, però no, l'emozione è tanta e speriamo di avere grosse soddisfazioni. Questa è un'iniziativa ormai pluriennale della Cassa Rurale ed è il primo momento che segna l'avvio anche dell'anno scolastico per questi bambini che inizieranno il loro percorso alla scuola primaria. Certo, dopo questo periodo abbastanza impegnativo, dovuto anche alla pandemia, qualsiasi momento di convivialità, di stare assieme, è sempre benvenuto e questa è già una prima occasione. La socialità per i bambini è importante, quanto lo è per gli adulti, ma per la loro crescita, anche cognitiva, di stare insieme con gli altri è sicuramente un fattore fondamentale. E dopo questi momenti di allegria all'insegna del divertimento e del senso di comunità, noi ci salutiamo con l'augurio ad ogni bambino di affrontare la scuola con allegria e soprattutto serenità. Al prossimo appuntamento con Trentino 20.